Valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e locale è l'obiettivo di appuntamenti col libro, giunto alla decima edizione, promosso dall'Associazione Culturale Clare Muse della professoressa Vittoria Caso. L'ultima tappa si è tenuta il 13 dicembre presso la Sala Consiliare del Comune di Casavatore, con la presentazione del libro di Salvatore Gamardella, Frasismi e Scosse, i Maremoti del Cure. Finalmente siamo alla decima edizione degli appuntamenti col libro e questa volta i primi appuntamenti che si sono svolti qui nella Sala Consiliare del Comune di Casavatore hanno avuto come protagonisti due giovani di Casavatore. Il 25 ottobre c'è stato Carlo De Felice Vespasiano, un ragazzo di 19 anni e adesso abbiamo un ragazzo che è poco più che ventenne, Salvatore Gamardella, che appunto è alla sua seconda pubblicazione ed è un testo composito perché non ci sono soltanto poesie ma ci sono anche delle parti in prosa, delle riflessioni, dei racconti che sono veramente molto interessanti per un giovane che dimostra una bella maturità. Dopo i saluti del sindaco Luigi Maione e dell'assessore alla cultura Elsa Piccaro del Comune di Casavatore, l'evento coordinato da Daniele Capozzo ha visto l'alternarsi degli interventi dei poeti in Enzi Amato, Silvana Pesola, Gennaro Iannuzzi, Carlo De Felice Vespasiano, l'esposizione di un abito a cura dell'Accademia di Moda Bassolino ed esibizione canore di Relativo, nome d'arte di Salvatore Gamardella. Intanto diciamo che scrivere per me è un'esigenza, probabilmente quella più importante, è qualcosa di quotidiano per me, quindi io praticamente ogni volta che provo un'emozione, la sento dentro, sento anche l'esigenza contemporaneamente di metterla o su carta o sul prememoria del telefonino e quindi diciamo che questo libro raccoglie un po' tutto quello che ho scritto tra i 16 e i 19 anni, quindi ormai sono passati anche già tre anni, però purtroppo per il Covid e varie situazioni lo stiamo presentando soltanto adesso, però è comunque una parte importante di me questo libro, contiene molto più che delle pagine almeno per me. Il mio libro tratta tematiche come l'amore ma anche tante riflessioni e soprattutto argomenti anche di attualità, infatti ci sono anche dei saggi brevi in cui ad esempio i ragazzi potrebbero anche rivedersi o che potrebbero trovare, all'interno dei quali potrebbero trovare degli spunti anche per i saggi scolastici, ad esempio per la maturità.